In questi momenti dobbiamo far sentire il nostro calore, facciamo un urlo! Nessuna ragione di questo giugno d'Italia, sedicisima tappa! Stiamo a prendere un po' senza bene perché stiamo a pedalare sui proposti e sui sinistri. Faranno gli ultimi 60-70 chilometri, ci saranno tre prove e poi dopo per finire sul Bondone. Vai ragazzi! Facciamo un grande applauso e facciamo aprire questo spettacolo! Una manifestazione sportiva che ci rappresenta nel mondo, il Giro d'Italia. Non dobbiamo fare un applauso! Si è creato tutto questo! Un applauso a tutti voi ragazzi! Ma te dove credi di andare? Sono proprio quasi sulla linea! I titoli che sono fermi ma tirano per questi duecenti tre chilometri! Un saluto! Noi! 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 Noi!